11 anni e mezzo dopo il Novara ritrova l'A1 con i colori dell'Azzurra e in pista c'è ancora Matteo Bruso Quindi mi stai dicendo che sono un vecchio Sì, sì, sicuramente è stato bello ritornare in A1, è stato bello rivedere un po' di gente al palazzetto Sicuramente, sapevamo che sarebbe stata una partita dura Peccato perché secondo me abbiamo un po' regalato il primo tempo Con errori, tra l'altro due sicuramente miei E quindi con queste squadre quando regali un tempo poi si fa fatica Però sono contento per il secondo tempo perché abbiamo dimostrato comunque di poter giocare a un certo livello E adesso dobbiamo ripartire da qua e in settimana lavorare affinché il nostro secondo tempo di oggi sia anche il primo dalla prossima partita Perché andiamo a Lodi e Lodi è un'altra di quelle squadre dure Che lotta per dei risultati importanti e quindi sappiamo di dover andare là a fare una grande partita per poter portare a casa dei punti Tanti giocatori nuovi nell'organico, avete lavorato per sei settimane, a che punto è l'intesa tra voi? Abbiamo lavorato tanto, abbiamo lavorato bene Sicuramente non siamo ancora al top Dobbiamo lavorare tanto ancora su tanti movimenti Però abbiamo avuto un mese e mezzo quindi siamo pronti per giocare le partite E penso appunto nel secondo tempo che lo abbiamo dimostrato di poter giocare a un certo livello E quindi niente, in settimana dobbiamo ritornare a lavorare e dimenticarci di oggi e pensare alla prossima Quanto ha giocato l'emozione iniziale nei primi minuti? Ma non lo so, non so se sia stata l'emozione o proprio una partita che è cominciata così Sicuramente l'emozione di tornare a giocare al Pala dal Lago con un palazzetto abbastanza pieno È sicuramente emozionante Però non credo che sia quello che ha condizionato il primo tempo È stato proprio forse una non abitudine a giocare a questo livello E un po' di disattenzioni, di mancata concentrazione Grazie Matteo